Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, lo so è buio, non ci vedo un cacchio, però devo andare, oggi è il compilano di mio padre, quindi devo mangiare fuori, devo andare al paese alto, devo aver fatto l'ultimo video con il monopattino elettrico, procedo con il motorino, e registro solo l'andato perché ritorno solo per il mio fratello del motorino, quindi no, registro solo l'andato, però senza taglio, perché non viene troppo corto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.